vedi che va sd vediamo se registra bene dov'è registrare bene si che c'è dentro lsb di mamma funziona sta funzionando che cosa mi ha inviato te l'ho inviato ma fai vedere come è venuto vede bene cheeseburger ma guarda come cammina no 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 ma che cazzo eccolo ooohh no no ma che cazzo sembra luca no l'ho vado 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!